Sono città di Messina Trocadero e Football 24 a sfidarsi nell'attesa finale dei Pulcini 2006. Due delle formazioni migliori del torneo danno spettacolo nel primo tempo con numerose conclusioni, ma i veri protagonisti sono gli estremi difensori Costantino e Scardigno, bravissimi e decisivi nel dire no più riprese agli attaccanti delle rispettive avversarie. Fioccano le occasioni, soprattutto da calcio piazzato, ma la prima frazione si chiude sullo 0-0. Il risultato si sblocca al secondo minuto del secondo tempo grazie al rinvio di Scardigno che beffa dalla propria porta il portiere del città e passa in vantaggio il Football 24. Due minuti dopo Centorrino si invola e con un bel tocco sotto sigla il raddoppio chiudendo la gara ed esibendosi in una spettacolare capriola. Il Football 24 vince 2-0 ma gli applausi sono per entrambe le formazioni scese in campo in questa bella finale.